Sì, qui all'ambasciata italiana il ministro Piantedosi è intervenuto alla conferenza dell'Aspen Institute sul futuro dell'Occidente in un mondo frammentato, parlando proprio del ruolo fondamentale dell'Italia per la sicurezza nel Mediterraneo, in particolare nel contrasto ai flussi migratori illegali aumentati con la instabilità provocata dalla guerra in Ucraina. Il ministro ha parlato anche di soluzioni innovative per la gestione dei flussi ispirate al cosiddetto approccio basato sulle rotte applicato proprio qui negli Stati Uniti. Sentiamo Piantedosi, poi la linea può tornare a Roma. Intercettare lungo le rotte di transito i migranti e offrire loro quelle opportunità alternative che ricercano e quindi poi vedere di risolvere i problemi delle migrazioni prima dell'avventura della traversata pericolosa in mare.